Questa struttura già ospita una RSA pubblica, ospita diversi ambulatori specialistici, il poliambulatorio del distretto di Mola e poi c'è già il servizio di radiologia completo, tra l'altro centro screening. Oltre a intitolare al dottor Pesce la struttura abbiamo l'avvio anche qui, come abbiamo fatto già in altri comuni, dell'ambulatorio infermieristico che è un ambulatorio gestito totalmente dagli infermieri, sarà attivo tutti i giorni, già da subito, tutti i giorni dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano per adesso e il martedì. A questo ambulatorio si accede dietro prescrizione del medico e medicina generale per effettuare una serie di prestazioni che sono di competenza infermieristica, quali ad esempio la medicazione, le fasciature, la terapia iniettiva, il cambio catetere, il cambio sacca, distomia, una serie di prestazioni che sono comunque ben codificate che possono dare un grosso aiuto alla popolazione che spesso si rivolge al medico di medicina generale per queste prestazioni e che tra l'altro è anche importante soprattutto per le fasce più deboli con pazienti con patologie croniche o anziani.